Andiamo con l'ultimo brano per la registrazione e poi vi ricordo che c'è il corpo di ballo, eh? Mi raccomando non andate via perché ci sono ballerini malissimi. Andate con te! Ciao! Lo contro l'anno d'Antona. Alla regge! E non è arrivato giù, il giorno che veniva che cosa succede che il cuore e il mio mondo e l'anno che cos'è io lo riperdo a me è vero, vero, che gli hanno il cuore Romano, tu che sarai lontano in questa terra la pace porterai però l'angelo verrà amore dentro a te ok Grazie a tutti. Grazie a tutti.